Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 134esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source. Settimana questa molto importante per tutti quanti noi pinguini perché quest'oggi, il giorno in cui sto registrando la puntata del podcast, il 22 ottobre, si è celebrato, si è svolto in tutta Italia il Linux Day 2022. La giornata in cui tutti quanti noi pinguini animiamo scuole, locali e quant'altro per divulgare il verbo del software libero open source e far conoscere assieme più persone che cos'è Linux, che cos'è l'open source, che cos'è il software libero. Se andate su Twitter e andate a cercare l'hashtag Linux Day 2022 troverete una serie di foto delle varie iniziative che si sono svolte in tutta Italia. Peccato per il Linux Day, quello nazionale organizzato dall'Italia Linux Society, quello online, che per problemi tecnici quest'anno l'Italia Linux Society è stata costretta ad annullare. Comunque l'Italia Linux Society si è fatto sapere che tutti i video già registrati dei regatori sono comunque possibili visualizzarli andando all'inizio video.linux.it, quindi non tutto è per tutto, possiamo recuperarli con calma. Comunque, passiamo alle notizie di questa settimana. Apriamo questa 134esima puntata del podcast di Marcos Box parlando di Mozilla e del rilascio di Firefox 106, la nuova major release dell'unica vera alternativa allo strapotere dei browser basati su Chromium. Poche le novità di questa versione 106 di Firefox però sono molto importanti. La prima riguarda una tendenza che ha preso ormai browser web negli ultimi anni. Sempre più browser web hanno iniziato ad aggiungere il supporto per la visualizzazione e la modifica dei PDF. E Firefox ha deciso di seguire l'onda e di aggiungere in questa versione 106 di Firefox la possibilità di modificare i PDF, inclusa la possibilità di scrivere testo, disegnare o aggiungere firme. Su Microsoft Windows, quando andiamo a impostare Firefox come browser predefinito, questa opzione rende Firefox anche l'applicazione predefinita per la visualizzazione dei PDF. Ormai c'è questa tendenza, come dicevo, e non l'ho capito onestamente. Io continuo a preferire un visualizzatore di PDF esterno a parte. Però molti utenti evidentemente richiedono a gran voce il supporto ai PDF all'interno dei browser web. E' carina comunque la possibilità di poter modificare i PDF anche se, diciamo così, le modifiche sono essenziali. Non è un vero editor di PDF come siamo abituati a vedere su quelli commerciali, però è una cosa iniziale. Speriamo che in questo caso evolva e renda la modifica dei PDF sempre più comprita. Sempre su Microsoft Windows, adesso è possibile in Firefox, aggiungere una scorciatoia rapida che ci consente di avviare Firefox in modalità anonima. Questa cosa non accade su Linux, peccato perché sarebbe stato bello avere questa scorciatoia rapida quando si va a installare Firefox. Probabilmente arriverà fra qualche release perché sapete bene che prima vengono introdotte su Windows e poi successivamente seguono gli altri sistemi operativi come Linux e Mac OS. E' migliorato poi lo scorrimento con due dita sul touchpad per andare avanti e indietro sulla cronologia delle pagine visitate che adesso funziona anche per gli utenti Linux su Wayland. Per quanto riguarda gli utenti Apple, su quelli che hanno Mac OS dalla versione 10.15 e versioni successive, adesso hanno la possibilità di effettuare il riconoscimento del testo nelle immagini. Il testo estratto viene poi copiato negli appunti per poterlo condividere, archiviare o cercare senza doverlo ridigitare tutto manualmente. Questa funzione è compatibile anche con VoiceOver, lo screen reader integrato in Mac OS. Su Marcos Box comunque trovate maggiori informazioni al riguardo. Introdotta poi una funzionalità chiamata Firefox View, che molti non hanno ancora ben capito, me compreso l'utilità di avere un pannello così dedicato. Praticamente adesso che cosa succede? Succede che quando andiamo a installare Firefox o andiamo a aggiornare, avremo una scheda pinnata in alto a sinistra con il riconcino di Firefox e cliccando si aprirà Firefox View. Che ci aiuta praticamente a tornare a quei contenuti visualizzati in precedente. Firefox View praticamente ci mostra tutti quanti le schede chiuse di recente, sia sulla sessione corrente, sul browser corrente, ma anche se abbiamo preso la sincronizzazione con i dispositivi mobile, ci mostra anche quelli dei dispositivi mobile. Troviamo poi la possibilità di modificare, di personalizzare anzi ulteriormente l'aspetto del browser mediante una nuova funzionalità chiamata Colorways, che ci consente di cambiare il colore dell'interfaccia utente di Firefox scegliendo tra 18 colori preimpostati. È una cosa carina per tutti quanti gli amanti delle personalizzazioni, io preferisco tenere l'interfaccia stock, non metto mani di solito a queste cose perché la trovo molto pacchiana, anche se detto da me che io ho una scrivania totalmente RGB, computer RGB, diciamo che è un controsenso. Altra novità, infine l'ultima novità di Firefox 106, è che adesso sono state aggiornate le funzionalità WebRTC, perché la libreria RGB WebRTC è passata dalla versione 86 alla versione 103, quindi va a migliorare tutte le funzionalità legate a WebRTC, inclusa una migliore condivisione dello schermo per gli utenti Windows e Linux su Wayland, minore utilizzo della CPU e aumento delle frequenze dei fotogrammi durante l'acquisizione dello schermo WebRTC su macOS e altre cosine qua e là. Per un changelog completo di Firefox 106, come al solito vi rimando alle pagine di Marcosbox, troverete il link che vi fa vedere tutte quante le novità. Torniamo adesso a parlare di DuckDuckGo per Mac, il browser web realizzato da DuckDuckGo, il famoso motore di ricerca incentrato sulla privacy. Sei mesi fa vi avevo parlato del rilascio della prima beta privata di DuckDuckGo per Mac, e adesso dopo sei mesi di sviluppo continuo, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare la prima beta pubblica, in modo tale da poter consentire un test sulla larga scala di questo nuovo browser web, incentrato sulla privacy, che ricordo sarà disponibile per macOS e per Windows. su Linux non si sono pronunciati, ma infatti la vedo un po' dura che facciano un porting per Linux, anche se all'inizio ero molto fiducioso, ma visto come stanno andando le cose, penso che non lo cacheranno di striscio, scusate il francesismo. Il team di sviluppo di DuckDuckGo ha ascoltato in questi mesi comunque i feedback da parte dei beta tester e ha portato ulteriori miglioramenti al browser per rendere l'esperienza utente migliore e più completa. Fra le novità troviamo l'aggiunta di una barra dei preferiti, non ho capito perché vi piacciono tanto le barre dei preferiti a voi utenti, troviamo la possibilità di pinnare i tabs, è stato aggiunto un modo per visualizzare la cronologia di navigazione memorizzata localmente, la funzionalità del consenso dei cookie, adesso può gestire i cookie pop-up su un numero significamente maggiore di siti, scegliendo automaticamente l'opzione più riservata e facendoci risparmiare fastidiose interruzioni, quindi fare i pop-up dei cookie che non ci vengono mostrati più, questa è una cosa carina, anche se poi in Italia abbiamo problemi con diversi quotidiani che hanno introdotto delle cose per il consenso dei cookie, che mamma mia, scansati, si sono inventate certe cose assurde. Non so se avete seguito su Twitter che cosa è successo sul Fatto Quotidiano, sul Corriere, che c'erano dei cookie pop-up che vi invitavano a o farvi profilare o acquistare la versione a pagamento dei giornali. Tutte cose italiane, tutte cose odiose che noi in Italia ci facciamo sempre riconoscere per se stronzate e speriamo che il garante arrivi giù il duro a bacchettare. Comunque, tornando a DuckDuckGo per Mac, DuckDuckGo per Mac ha sempre bloccato i tracker invasivi prima che questi vengano caricate, eliminando quindi in modo efficace tutti quanti gli annunci che si basano sul tracciamento. Questa funzionalità è stata ulteriormente migliorata grazie alla rimozione dello spazio bianco lasciato dagli annunci al fine di migliorare l'aspetto delle pagine visualizzate senza la necessità di installare un blocco degli annunci separato. DuckDuckGo per Mac consente adesso anche di attivare DuckDuckGo Email Protection sul desktop. Questa funzionalità ve ne avevo parlato qualche mese fa anche per mobile, anzi per mobile perché è arrivata prima sulla versione per Android. Gli sviluppatori di DuckDuckGo ci fanno sapere che stanno lavorando per implementare il supporto per le estensioni che arriverà nel prossimo futuro perché loro stanno cercando di concentrarsi su fare un sistema per gestire le estensioni più attento alla privacy possibile quindi ci stanno ancora lavorando. Ci sono però anche due grosse novità importanti introdotte in questa versione. La prima riguarda DuckPlayer la seconda riguarda l'integrazione con Bitwarden. DuckPlayer è un player di YouTube che ci aiuta a proteggerci da annunci e cookie mirati con una interfaccia priva di distrazioni. Detto così sembra una cosa molto strana. Praticamente quando andiamo a visualizzare un video su YouTube si aprirà questa interfaccia che ci mostra soltanto il video oscura il resto e tutti gli annunci che vediamo all'interno di DuckPlayer non saranno personalizzati quindi non ci sarà tracciamento. I test condotti dagli sviluppatori di DuckDuckGo hanno dimostrato che questo player ha impedito del tutto la pubblicità sulla maggior parte dei video. YouTube continuerà comunque a registrare ancora le nostre visualizzazioni però quindi significa che non è totalmente anonimo non ci consente di essere totalmente anonimi questa funzionalità ma nessuno dei video che guardiamo con DuckPlayer contribuirà al nostro profilo pubblicitario su YouTube o ci andrà a suggerire consigli personalizzati che potrebbero distrarci. La funzionalità può essere sempre attiva per qualsiasi video visualizzato oppure possiamo attivarla per video specifici. Il browser di DuckDuckGo include come sapete anche un gestore delle password come tutti quanti i browser web facile da usare che può ricordare e compilare automaticamente le credenziali di accesso e suggerirci password casuali per i nuovi accessi. Funziona per la maggior parte degli utenti ma ci sono molti utenti che sono utenti avanzati che vogliono utilizzare il gestore delle password che già utilizzano. Ad esempio, uno di questi gestori di password delle terze parti molto utilizzato da parte degli utenti avanzati è Bitwarden per questo DuckDuckGo ha deciso di collaborare con Bitwarden che è un gestore di password open source e nelle prossime settimane perché questa funzionalità non è stata ancora implementata attualmente gli utenti di Bitwarden potranno attivare l'integrazione bidirezionale nelle impostazioni del browser. DuckDuckGo comunque è anche compatibile con le funzioni di riempimento automatico universale di 1Password e quindi si sta delineando un browser web completo con tante funzionalità base direttamente integrate all'interno del browser quindi non ci sarà bisogno di estensioni e quant'altro per navigare protetti per stare anonimi e quant'altro e speriamo di metterci le mani presto almeno su Windows perché come vi dicevo su Linux non si parla più gli sviluppatori hanno detto che la versione per Windows scusate arriverà arriverà breve e non ci resta non ci resta che attendere per poterlo provare fatemi sapere se voi lo proverete o se siete utenti Linux puri se non ve ne frega assolutamente niente passiamo adesso a parlare di distribuzioni Linux e parliamo di Rogging Rhino Remix che diventa adesso Rhino Linux e passa a XFCE praticamente vi ho detto tutto con il titolo di questo spezzone cerchiamo di spiegarci meglio per chi non conosce il progetto e per chi ha sentito nominare per la prima volta Rogging Rhino Remix troppe R di mezzo da diverso tempo molti utenti amanti di Ubuntu hanno iniziato a guardare con occhio e l'occhi questa distribuzione che di fatto era un remix non ufficiale di Ubuntu realizzato inizialmente da Martin Winpress il patron quello sviluppatore principale di Ubuntu Mate poi si sono uniti altri sviluppatori a questo progetto che avevano realizzato una serie di script in grado di trasformare Ubuntu una installazione di Ubuntu in una distro di tipo Rolling Relays quindi con Gnome però che veniva mantenuto sempre aggiornato assieme a tutti quanti i pacchetti della distro ed era un progetto interessante tant'è che molti utenti si sono accasati su questa distro anche se a rischio e pericolo perché non era propriamente stabile che andava fuori di fatto a realizzare un sogno di tutti quanti di tutti gli utenti Ubuntu che è quello di avere finalmente una Ubuntu di tipo Rolling Relays perché immaginate veramente che cosa deve essere una Ubuntu Rolling Relays e una Ubuntu LTS secondo me sarebbe la quadra sarebbe andrebbe a completare Ubuntu via queste cavo di relays semestrali che non servono a niente facciamo soltanto una di tipo Rolling Relays per tutti quanti gli appassionati pronti a far da calma i pacchetti e una LTS per gli utenti aziendali per per chi per i partner commerciali che intendono commercializzare computer con Ubuntu perché io mi domando perché Canonical non non pensa a fare una cosa del genere non l'ho mai capito questa cosa perché forse anzi forse l'ho capita diciamo che il sistema quello di rilasci semestrali contribuisce a mantenere viva l'attenzione sulla distribuzione perché ogni 6 mesi si parla delle novità strabilianti delle nuove versioni di Ubuntu che come andremo a vedere nel prossimo spezione del podcast perché c'è stato anche il rilascio della nuova rilasci semestrale di Ubuntu sono sempre pompate e messe chissà che cosa è arrivato però alla fine non arriva quasi mai niente arrivano soltanto bug poveri sventurati che provano le rese semestrali che vanno installati vabbè comunque tralasciando questo torniamo torniamo a bomba torniamo a quello che stavamo parlando torniamo a Rolling Rhino Remix tropper tropper maledetti a voi dicevo nel corso degli anni lo sviluppo di Rolling Rhino Remix si è evoluto e è cambiato drasticamente sotto il cofano e il suo sviluppo è diventato quasi insostenibile per gli sviluppatori perché non è che sono tanti da un progetto nato per divertimento è diventato troppo in fretta un progetto troppo grande da poter essere mantenuto così com'è da qui adesso la decisione da parte degli sviluppatori della distro di cambiare direzione restando però fedeli al focus principale ovvero di fornire una versione Rolling Relays di Ubuntu hanno deciso di stravolgere tutto di cambiare la distro di rinominarla e di farsi chiamare Rhino Linux Rhino Linux sarà un sistema operativo tipo Rolling Relays sarà basato su Ubuntu inteso come come distribuzione sarà caratterizzata dall'utilizzo di Pakistar come gestore dei pacchetti e avrà XFCE come desktop environment quindi che cosa hanno deciso di fare hanno deciso di migrare a un desktop environment più tradizionale più stabile da sempre rinomato per la sua stabilità e velocità non rilasciano versioni a rotta di collo come altri desktop environment quindi è anche più facile per loro non stare ad aggiornare tutto non stare a mantenere anche il desktop environment Pakistar gli utenti di Rolling Rhino Remix già lo conoscono è una utility che praticamente è un gestore di pacchetti simile ad Aure per Ubuntu è estremamente sensibile è stato adottato un repository Pakistar specifico per Rhino Linux diretto dal vice capo del progetto e fondatore di Pakistar quindi è mantenuto anche dallo stesso edificio che mantiene Pakistar i pacchetti fondamentali della distribuzione come XFSE i kernel Linux i boot splash premonti browser web firefox saranno tutti quanti installati tramite Pakistar e sapete che vi dico sono curioso di provarla ci metterò quasi sicuramente le mani la installerò su una partizione sul disco perché sono curioso di capire di vedere se un Ubuntu di tipo Chronic Raze possa essere considerata una distribuzione degli driver e sono curioso anche di vedere come hanno impacchettato XFSE se andranno a fare qualche personalizzazione al desktop environment e altre cosine fatemi sapere voi se la proverete se siete attratti da questo se anche voi siete di quegli utenti che da tempo desiderano un Ubuntu di tipo Rolling Raze e passiamo adesso a Ubuntu perché questa settimana c'è stato il rilascio di Ubuntu 22.10 nomi in codice Kinetic Kudu nelle edizioni desktop server e cloud nonché di tutti i suoi frevos ufficiali che questa volta sono anche più numerosi perché si è andato ad aggiungere la nuova Ubuntu Unity di cui vi avevo parlato qualche settimana fa Ubuntu 22.10 porta con sé GNOME 43 l'ultima versione di GNOME che va ad introdurre una serie di novità che spaziano ad esempio tra un nuovo menu per impostazioni rapide e miglioramenti del file manager con interfacce responsive e quant'altro e fra l'altro il nuovo menu delle impostazioni rapide in stile sistema operativo mobile diciamo così anche anzi in stile Apple secondo alcuni con dei pulsanti più non lo so a me non mi piacciono comunque mentre fare applicazioni preinstallate su Ubuntu 22.10 troviamo un nuovo editor di testo anzi troviamo il nuovo editor di testo di GNOME che va a sostituire Getit tra le novità poi troviamo anche Webplumber come server audio predefinito il supporto al formato di immagini WebP out of the box quindi non sarà più necessario fare tutto quell'accocchio che vi avevo postato qualche tempo fa sulle pagine di Marcosbox troviamo poi un nuovo pannello per la gestione del Ubuntu desktop quindi le icone del desktop il comportamento della dock e quant'altro e poi troviamo il kernel Linux 5.19 ovviamente con tutte quante le patch di sicurezza backportate quindi se avete un hardware Intel c'era un bug piuttosto grave che affliggeva il possessore di hardware Intel non vi preoccupate perché il kernel Linux è sì quello vecchio è sì il penultimo ma comunque tutte le patch di sicurezza e quant'altro che sono state backportate dalle nuove versioni ovviamente poi come di consulito non manca l'aggiornamento del parco delle applicazioni preinstallate io non l'ho installata ancora non l'ho provata non c'ho tanta ansia di provare questa versione semestrale di Ubuntu fatemi sapere voi se avete deciso di provare se l'avete installata e fatemi sapere che cosa ne pensate onestamente mi vergogno un po' di me stesso in passato ogni release semestrale di Ubuntu l'andavo a metterci su le mani c'era questa mia ansia di provare però mi sono accasato su Endeavor come ne avevo parlato la settimana scorsa e non riesco a trovare una motivazione per andare a formattare la disc per andare a provare la nuova versione di Ubuntu perché sapete bene che io sono masochista e non ho mai amato le macchine virtuali andavo sempre a fare un'installazione fisica sto invecchiando sto invecchiando pure mi sono rimasto talmente sprofato da Endeavor OS e da KDE riuscire a guardare nessun'altra distribuzione nessun altro desktop environment non riesco più a guardare ormai l'occhi solo per l'oro e per tutti quanti gli utenti amanti di KDE Neon c'è una bella notizia perché gli esigruppatori di questa distro distro però tra virgolette perché tecnicamente non è una vera e propria distro dicevo gli esigruppatori di KDE Neon hanno aggiornato finalmente la base della distribuzione alla nuova LTS di Ubuntu e come ben saprete KDE Neon si basa su le versioni LTS di Ubuntu con KDE e tutto il cucurzaro sempre aggiornato ogni due anni c'è una nuova versione di LTS di Ubuntu e successivamente al rilascio della nuova LTS il team di KDE Neon va ad aggiornare la base di KDE Neon adeguandosi alla nuova versione con supporto di ISO e hanno appena concluso la migrazione ci hanno messo tanto tempo anche perché hanno dovuto indire un sondaggio per chiedere alla comunità come comportarsi con i pacchetti di Firefox e finalmente hanno aggiornato l'ISO con la nuova base se dovete effettuare una nuova installazione di KDE Neon potete scaricare fin da subito le nuove ISO aggiornate alla nuova base nel caso di precedente installazione il pop up di aggiornamento vi dovrebbe comparire dal prossimo 24 ottobre quindi vi verrà notificata la possibilità di aggiornare e sarà possibile aggiornare la vostra distro alla nuova base fatemi sapere se voi utilizzate sapete bene che io in passato sono stato un estimatore di questa distribuzione l'ho amata l'ho apprezzata però come avevo detto nell'ospensione precedente oramai mi sono buttato su Endeavor OS con KDE e non riesco a passare ad altro e passiamo adesso a una notizia che riguarda la document fontition che ha annunciato la disponibilità di LibreOffice per Windows direttamente dal Microsoft Store e questa versione è una versione a pagamento se andrete a scaricare LibreOffice dal Microsoft Store The Document Foundation addebiterà una commissione di 4,59€ che sarà investita per supportare lo sviluppo del progetto LibreOffice questa decisione fa il palo a quella presa lo scorso mese per quanto riguarda LibreOffice sul Mac App Store anche in quel caso scaricando LibreOffice dallo store di Mac OS la versione è a pagamento quindi e questi soldi vengono utilizzati appunto per supportare lo sviluppo di LibreOffice così come è stato per la versione per Mac OS anche per la versione per Windows continuerà ad essere gratuita se decidete di andare a scaricare direttamente dal sito web ufficiale di LibreOffice se siete pigri e scaricate dal Microsoft Store la pagate se invece no continuerà ad essere gratuita ovviamente ci mancherebbe altro e in linea di principio questa l'idea non è malvagia perché è importante cercare di far capire alle persone cercare di educare le persone che il software libero è libero è gratuito però necessita di finanziamenti di supporto economico per poter essere portato avanti e molti utenti continuano a utilizzare progetti open source progetti di largo consumo applicativi di largo consumo senza cacciare un diniero e questa è una cosa molto pericolosa per il mondo del software libero open source perché spesso la mancanza di finanziamenti può portare alla morte del progetto che magari era un progetto interessante che era un progetto che aveva del potenziale dicevo in linea di principio questa è una cosa interessante una cosa buona però in pratica dubito che si riesca ad avere grande successo che questa iniziativa riesca ad avere grande successo perché diciamoci la gente che donava al progetto di HyperOffice continuerà a farlo nei modi tradizionali non di certo andrà nuovamente a scaricare a versi un appagamento dal Microsoft store o dal Mac App Store quindi ci saranno soltanto quella parte di utenti diciamo così inesperti non avvezzi al progetto HyperOffice che magari andranno a acquistare dagli store ma la maggior parte delle persone non lo farà continuerà a scaricare il programma l'applicativo del sito web ufficiale e continuerà nel caso a supportarlo economicamente come ha sempre fatto in passato se lo faceva e beh gli altri utenti occasionali su Windows che faranno continueranno a piratare Microsoft Office come hanno sempre fatto e concludiamo questa 134esima puntata e poi di Cassi Marcos Box con una notizia che arriva da Bariga Bariga non ha certo bisogno di presentazione essendo uno dei marchi di pasta più famosi apprezzati sia in Italia che nel resto del mondo in questi ultimi mesi per via della guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica dovuta ai ridotti approvvigionamenti del gas in rete sono iniziati a comparire una serie di video che spiegano come risparmiare sulla bolletta del gas e molti di questi anche spiegano come risparmiare sulla cottura della pasta e molti conti in credito hanno iniziato a fare i video a riguardo ci sono stati anche i primi Nobel che l'hanno fatto ricordo i video fatti prima di questo periodo anzi fatti da Bressanini a riguardo che spiega questa cosa perché è possibile in effetti non tenere la fiamma fissa durante la cottura della pasta quindi andatevi a recuperare i video soprattutto quelli di Bressanini anzi seguite il canale di Bressanini perché è uno dei migliori divulgatori italiani e dicevo Barilla ha cercato di venire incontro e ha realizzato un prodotto di certo una trovata pubblicitaria per stare al passo con il sentiment dei content creator non è nulla di serio secondo me questa cosa l'hanno fatta giusto per far parlare di loro e ha presentato questo dispositivo chiamato Passive Cooker che è un dispositivo bluetooth open source che ci avvisa quando l'acqua bolla e quando quando è necessario scorrere la pasta è stato realizzato un video che spiega il progetto è stato realizzato un pdf che spiega come realizzare questo dispositivo e sono stati resi disponibili anche tra virgolette gli ingredienti per realizzare il Passive Cooker praticamente abbiamo necessità di una board arduino nano 33 BLE un termoresistore un resistore qualche microswitch delle batterie un paio di magneti e un case che è stampabile con una stampante 3D è una cosa interessante e simpatica e open source quindi merita di essere citata sulle pagine di Marcosbox perché si tratta di open hardware ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 134esima puntata di podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo che potete seguirmi sui principali social quindi trovate la pagina facebook ufficiale mi potete seguire anche sul profilo personale di facebook potete chiedermi l'amicizia tranquillamente non vi preoccupate mi trovate su twitter mi trovate su linkedin con il profilo personale mi trovate su youtube con un canale dove pubblico ogni tanto qualche video qualche recensione e quant'altro e vado anche a ripubblicare le puntate del podcast di Marcosbox perché molti di voi preferiscono guardare anzi ascoltare il podcast di Marcosbox su youtube vi ricordo come sempre che il podcast di Marcosbox è disponibile su spotify google podcast anchor apple podcast castbox tunin amazon music amazon alexa e chi più ne ha più ne mette anzi qualche giorno fa mi ha anche un amico da parte di un altro servizio di podcasting che mi invitava a reclamare il podcast quindi mi trovate praticamente ovunque anzi sono loro che mi cercano i servizi di podcasting non ho capito bene come funziona questa cosa comunque è interessante questo fatto che mi perseguitano anche i servizi di podcasting oltre gli omonimi vi ricordo altresì che potete seguirmi su twitter sul canale telegram ufficiale di Marcosbox che potete utilizzare anche a modo di feed rss qualora non vogliate utilizzare i feed rss presenti sul blog trovate poi il canale dedicato alla community di Marcosbox dove potete commentare le notizie ma potete parlare di qualsiasi altro argomento perché c'è il cazzeggio libero infine vi ricordo che potete trovate anche un terzo canale telegram dedicato alle offerte amazon di Marcosbox che potete utilizzare per supportare il blog come acquistando da uno dei link proposti sul canale dedicato alle offerte amazon mi riconoscerà una percentuale per voi non cambia niente ma verrà riconosce una percentuale per me in alternativa potete utilizzare il mio codice referrer marcosbox trattino 21 che trovate comunque pubblicizzato sulla pagina sul blog nella parte destra del blog infine vi ricordo che se avete la necessità di acquistare una VPN che sia una VPN di NordVPN Surfshark oppure AddressVPN potete utilizzare i miei codici referrer che trovate su Marcosbox e supportare anche il blog con questa altra modalità che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao 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 Ciao